Oggi ci occupiamo di un fenomeno che sarà poi molto utile nel seguito e nelle applicazioni dell'elettricismo nella vita quotidiana, cioè il fatto che all'aspira può essere applicato un momento di rotazione. Ricordiamoci che nella fisica il momento è la grandezza che misura le rotazioni. Prendiamo un filo percorso da corrente e sappiamo che sul filo percorso da corrente agisce una forza fatta così, il famoso bil che però dal punto di vista vettoriale noi scriviamo così, quindi se abbiamo un filo e un campo magnetico nel quale lui è immerso, questo è l'angolo tra il filo che noi rappresentiamo con IL come vettore e B. Abbiamo il vettore forza che tira via il filo. Il vettore I per L è parallelo al filo e ha un verso della corrente. Un'aspira di questo tipo, quindi un anello fatto in questo caso quadrato che ha due terminali, uno positivo e uno negativo attaccato da una batteria, quindi ci sarà corrente nell'aspira. La immergiamo in un campo magnetico rivolto verso l'alto in questo modo, vedete? Il campo B è rivolto verso l'alto, quindi qua ci sarà un nord, qua sotto ci sarà un sud, di una calamita, ok? E la spira è percorsa da una corrente. In ogni tratto della spira ci sarà una IL, come in questo caso, vedete la I è qua, e ci sarà una lunghezza L1 della spira, che è questa lunghezza qua, che ripetiamo da questa parte, e ci sarà quindi un B. Se abbiamo una IL e un B, ci sarà una forza F, che se giochiamo con la mano destra mettendo il pollice da questa parte e le dita verso l'alto, abbiamo l'uscita dal palmo che ci dice che la forza è rivolta, così come in questo altro tratto la forza è rivolta così. In questi due tratti, che sono in realtà sull'asse di rotazione della spira, che è questo qua, quindi la spira ruota così, avremo una forza verso l'esterno e una forza da quest'altra parte. Quindi tendiamo a stiracchiare la spira. Lungo l'asse Y i due vettori si annullano, perché come vedete si trovano sulla stessa retta d'azione, quindi una va da una parte, una va dall'altra, non c'è nessun braccio del momento. Dall'altra parte invece, visto che la spira è inclinata, abbiamo una forza che è su questa retta e la forza che è su quest'altra retta, c'è un braccio di rotazione, quindi si genera una coppia di forze che abbiamo già studiato in abbondanza. Quando c'è una coppia di forze, che è un oggetto fisico piuttosto famoso, quindi una forza verso il basso e una forza verso l'alto con una distanza D tra di loro, si genera una rotazione. Ciascuna forza ha modulo BL. Quindi come troviamo il momento della coppia di rotazione? Il momento è dato di una coppia da B braccio, distanza tra le forze, per la forza. Ma qual è il braccio? Allora mettiamo la spira in questo modo, ok? La spira è fatta così, va bene? Quindi la vediamo soltanto di traverso. Che cosa succede? Abbiamo in alto, su questo filo, il campo era così e la forza era così, stiamo parlando di questo filo qua, ok? Di questo filo. Gli stiamo guardando da questa parte, va bene? Guardiamo da quella parte e quindi vediamo una forza verso destra, una forza verso sinistra, che hanno due rette d'azione, queste due rette qua, questo è il braccio di rotazione, d'accordo? Della coppia. È dato da AH, è dato da cosa? Dall'ipotenusa, che è la lunghezza del filo, AD, per il seno di quest'angolo qua, in cui la spira è inclinata rispetto al piano. Questa è la spira ed è inclinata di un angolo alfa rispetto al piano azzurro. Se noi facciamo questo calcolo, per noi AH, c'è la distanza tra le due forze, questa è la distanza qua, AH è un cateto di un triangolo rettangolo, di angolo alfa di fronte al cateto. Il momento di rotazione, che è dato da M per F, quindi M per B, scusa, chiedo scusa, M uguale a F per B, otteniamo che B è dato da questa relazione. ecco qua. Se così stanno le cose, abbiamo che L1 per L2 non è altro che l'area della spira, lato 1 per lato 2, lo vediamo qua. Questo qua è il lato 2, questo è il lato 1, abbiamo un rettangolo che ha quell'area lì. Quindi dal punto di vista vettoriale il momento di rotazione dato da I per A, che tra l'altro l'ho chiamato anche momento magnetico di rotazione, lo chiamiamo qua così, per B e quindi otteniamo questo momento di rotazione. Definiamo I per A come momento magnetico della spira. Va bene? E se I per A è il momento magnetico della spira, anziché mettere I per A, metteremo non più I per A, ma questo Mu M, che è la nuova relazione per il momento di rotazione della spira. Quindi attenzione, un conto è il momento di rotazione della spira, un conto è il momento magnetico della spira. Come abbiamo detto, questo è orientato, questo momento magnetico della spira non è altro che uno scalare per A, quindi è orientato come il vettore A, cioè perpendicolare alla spira. Si misura in Ampere in metro quadro, naturalmente I è in Ampere e A è in metro quadro. Quindi una definizione molto importante è proprio questa, una spira percorsa da corrente in un campo magnetico uniforme B tende a ruotare in modo da portare il proprio momento magnetico I per A, questo qua, nella stessa direzione è verso di B, cioè lei vuole sempre andare a mettersi così con il vettore A parallelo a B. Questo è il suo desiderio ogni volta che lo mettiamo all'interno di un campo magnetico, d'accordo? Quindi questa è la condizione di equilibrio in cui B e il momento magnetico dell'aspira sono paralleli, questa condizione è una condizione di non equilibrio, vedete che non sono paralleli, figuriamoci questa. In questo caso non abbiamo una rotazione possibile perché non c'è un seno che sia diverso da zero. Vedremo più avanti che in realtà questa posizione a volte viene raggiunta con una rotazione precedente, quindi in realtà lui arriva da questa rotazione e se ne va un pochettino oltre e noi sfrutteremo questa situazione. Ok? Quindi situazione di equilibrio quando il momento magnetico e il campo magnetico sono paralleli. Perché? Perché in questo caso noi abbiamo alfa uguale a zero, siccome alfa ci consente di dire che il seno di zero vale zero, anche m vale zero. Lo vediamo bene da questa relazione. Guardatevelo con calma e vedrete che non è così complicato. Buona giornata.